Buona giornata a tutti, dopo avervi parlato tempo fa del tonico rassodante per pelli sinstonicoibili di Anthos Cosmesi che mi aveva conquistata, facendomi rivalutare la categoria tonici, in questa e nella prossima review vi racconto invece la mia esperienza dello scorso inverno con gli altri due tonici del marchio, il rassodante per pelli secche e l'addolcente per pelli normali. Meritevole di segnalazione anche la quarta ed ultima versione di tonico proposta dal marchio, ovvero l'astringente per pelli grasse. E impure che, nel mio caso di pelle secche e sensibile, è l'unico che non proverò ma che è da sempre considerato un must del brand, dei soggetti con quei tipi di pelle. In generale, pur preferendo spiccatamente gli idrolati puri, i tonici di Anthos mi sono piaciuti al punto di volerli a turno provare. Tutti e tre sto già adocchiando anche le acque aromatiche. Il tonico rassodante per pelli secche si presenta nella classica bottiglietta in plastica bianca da 125 ml etichetta recante il PAO, che è di 6 mesi, la scadenza che è valida se il prodotto non è mai stato aperto. L'inci è di recapiti dell'azienda. Ha il tappo a scatto con comode dosatore per evitare che ne fuoriesca troppo. La foto che vedete si riferisce al vecchio packaging, più recentemente le etichette sono state cambiate, assumendo un aspetto ancora più grazioso e moderno, lasciando invece invariati prezzi e inci. Anche questa versione risulta rinfrescante ed idratante, speccia nel periodo estivo, anche se un po' meno rispetto al rinfrescante. Pelli sensibili che era pure lenitivo, comunque dona sollievo alle pelli secche e mature a cui si dirige, idratando adeguatamente. La profumazione in questo caso è più fruttata, spicca nettamente la presenza della mela e nonostante sia innamorata della profumazione del rinfrescante che mi ricorda marcatamente il tè, trovo deliziosa pure questa. La dicitura rassodante invece mi lascia un po' perplessa. A confezione ultimata non ho notato alcuna azione di questo tipo, se no an. Il normale turgore di quando si applica un tonico, ma rimane per me in dubbio la qualità del prodotto e la sua azione idratante sulle pelli secche, disidratate e con rugosità, così come Anthos lo ha pensato. Ecco il suo inci, acqua, citra sorrentium amara flower water, pirus malus extract, ipericum perforatum extract, sodium levullinate, sodium anisate. Materie prime certificate o approvate da ecocerta erbe officinali da coltivazioni bio. Come gli altri tre tonici viene venduto al costo di 4 euro ed è reperibile in tutte le bioprofumerie fisiche online che trattano il brand. Anche il rassodante conferma che in fatto di tonici viso con buon inci, gli Anthos sono tra i migliori che abbia conosciuto e anche tra i più onesti per il rapporto qualità, prezzo, considerando che ci sono prodotti più costosi per via del pack meno essenziale ma magari più vuoti come formulazione, Anthos invece si distingue sempre per la sostanza, pochi ingredienti perfetti per lo scopo. Soddisfatta anche di questo rassodante per pelli secche che consiglio a chi vuole un tonico rinfrescante, mediamente idratante e che profuma di frutta. Voto 910, Faccina sorridente, alla seguente recensione con il tonico addolcente per pelli normali. Potrebbe interessarti anche, il tonico per il viso questo sconosciuto. Come utilizzarlo tonico viso, tutte le review 99,010 nessuno. Grazie a tutti.